Una partita che ha sancito se ce ne fosse bisogno che siete la squadra a battere non solo per il risultato ma anche per il gioco. Sì, oggi ha avuto spazio qualcuno che mercoledì non ha avuto spazio, hanno fatto bene e sono contento. Diciamo che essere scontenti dopo un risultato così pieno forse dà anche la dimensione della testa che ci dovete mettere sempre per affrontare le partite in un certo modo. Sì, più che altro se perdi un attimo la concentrazione, oggi abbiamo trovato una squadra che ci ha dato la possibilità di sbagliare qualcosina, di recuperare, però se entri con squadre di un certo tipo la testa di oggi direi che non va bene. Grazie Adesso c'è il Cresi, una settimana diciamo di allenamento pieno senza partiti in mezzo, forse questo aiuta? Beh, sicuramente comunque riposare un paio di giorni non fa male, anche se come ho detto l'altra volta non credo sia tutta questa fatica di fare una partita. Quindi speriamo di una mano, sicuramente è un campo difficile e cercheremo di portare a casa sempre i tre punti. Grazie 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 Grazie